Buongiorno ragazzi, oggi parliamo della Scuola Poetica Siciliana e facciamo un breve cenno anche alla Scuola Poetica Toscana. La Scuola Poetica Siciliana è stata la prima grande manifestazione letteraria italiana. Quando parlo di manifestazione letteraria italiana ovviamente mi riferisco ad una manifestazione letteraria che utilizzasse la lingua volgare che si era diffusa in Italia, quindi quella che noi siamo chiamati a denominare lingua del sì. Rispetto alle produzioni letterarie con funzione artistica in lingua doc o in lingua d'oil, quindi in lingua doc mi riferisco nel dettaglio alla poesia trobadorica ovvero alla cosiddetta lirica cortese e in lingua d'oil mi riferisco principalmente alle chansons de jazz, la lirica italiana è arrivata con un pochino di ritardo ed è rimasta per lunghissimo tempo proprio ancorata all'ombra di quella che è stata la produzione francese e alla produzione provenzale, dalla quale peraltro ha ereditato proprio i temi, i temi principali e le forme poetiche. Per comprendere però quanto importante sia stato il modello occitanico basti pensare che in Italia ci sono stati proprio casi di veri e propri trovatori, uno dei quali, uno dei più famosi è stato quel sordello d'agoito di cui abbiamo parlato a proposito dell'introduzione alla Divina Commedia. Sordello d'agoito è stato infatti celebrato da Dante dal sesto all'ottavo canto del Purgatorio e ha proprio a sordello d'agoito Dante ha affidato l'incarico di pronunciare quell'invettiva all'Italia che costituisce un tratto importantissimo nella struttura della Divina Commedia. Sordello d'agoito aveva vissuto per un lungo periodo della propria vita nella Provenza, ovvero nella Francia meridionale, assorbendo la tradizione poetica trobadorica. Quindi quando poi rientrò in Italia continuò, mantenne quelle che furono i grandi apprendimenti che aveva fatto in Provenza e cominciò a scrivere diversi sirventesi, ovvero diversi componimenti poetici che erano caratterizzati da un vigoroso accento politico e civile. proprio per questo motivo Dante lo ha scelto come espressione e come promotore di quell'invettiva all'Italia che avrebbe caratterizzato il sesto canto del Purgatorio. Qua per parlare della scuola poetica siciliana, in primo luogo cercheremo di contestalizzarla all'interno di quella che è stata l'esperienza poetica lirica italiana del 1200. Poi la inquadreremo secondo quelle che sono le sue coordinate essenziali, le coordinate spaziali, quindi il luogo in cui si è sviluppata, le coordinate temporali, quindi il periodo che è stato interessato da questa produzione e in base a quelle che furono le sue caratteristiche essenziali. Ci soffermeremo poi in particolare a parlare della corte di Federico II e per poi diffonderci pienamente sul tema della Morcortese che è il primo e più importante argomento che affrontarono gli esponenti della scuola poetica siciliana. Particolare attenzione sarà destinata alla struttura metriche e alle strutture linguistiche e retoriche utilizzate dagli esponenti della scuola poetica siciliana e infine faremo un piccolo accenno ai rapporti che la scuola poetica siciliana è intrattenuto con il proprio modello, ovvero con il modello trobadorico. Non potrà mancare un riferimento alla scuola poetica toscana che però sarà piuttosto ridotto e che sarà veramente sommario e per quanto mi riguarda è sufficiente che sappiate quello che verrà detto in questa video lezione sul tema della scuola poetica toscana. Cominciamo a parlare quindi della poesia lirica in Italia nel 1200. Allora nella prima metà del XIII secolo cominciano a svilupparsi ovvero del 1200 cominciano a svilupparsi in Italia esperienze letterarie che a differenza della poesia religiosa di San Francesco da Sisi oppure di Jacopone da Todi avevano dei caratteri molto particolari ovvero avevano dei fini di arte, erano delle esperienze poetiche che avevano un esclusivo fine d'arte. Quali erano questi caratteri che definivano il fine d'arte? In primo luogo la ricerca di un livello espressivo alto, la raffinata elaborazione formale e in terzo luogo il fatto che si rivolgessero ad elite colte, ristrette ed esclusive. Quindi ci troviamo di fronte ad esperienze poetiche rivolte ad un pubblico colto, ad un pubblico ristretto facente parte di un gruppo esclusivo che hanno delle finalità artistiche che si manifestano in una ricerca formale ed espressiva alta. Bene, queste esperienze poetiche italiane nel 1200 si utilizzano il genere poetico della lirica, genere in cui il soggetto esprime se stesso, ovvero parla delle proprie esperienze e dei propri sentimenti. Non si deve però immaginare che questa espressione del sé fosse un'espressione spontanea, una spontanea espressione del proprio sentimento, essa era infatti sempre filtrata attraverso precise convenzioni letterarie, convenzioni letterarie che derivavano dal modello di riferimento. Qual era il modello di riferimento della poesia lirica in Italia nel 1200? Il modello era rappresentato dalla poesia cortese provenzale in lingua doc. Poesia cortese provenzale in lingua doc che era giunta in Italia a seguito della, che era giunta in Italia, che era venuta a contatto con gli intellettuali italiani, soprattutto a seguito della crociata che era stata indetta da Papa Innocenzo III contro gli albigesi. Dal seguito di questa crociata diversi trovatori avevano trovato rifugio in Italia, in particolar modo nell'Italia settentrionale ed in particolar modo nel Monferrato e nella Marca Trevigiana. In queste aree fiorirono le prime imitazioni della poesia trobatorica, di cui vengono ripresi non solo i temi ma anche la lingua. In altri termini, in queste aree, come abbiamo detto nel Monferrato e nella Marca Trevigiana, di fatto cominciarono a svilupparsi delle produzioni poetiche che utilizzavano la lingua doc, quindi che non utilizzavano i volgari locali. E questa cosa si può spiegare molto bene. Come mai in Italia non si utilizzassero i volgari locali? Perché la frammentazione politica dell'Italia settentrionale aveva di fatto impedito che un volgare prevalesse sugli altri, ovvero che acquistasse prestigio letterario. Se questa cosa si è verificata in Italia settentrionale dove l'imitazione del modello trobadorico cortese provenzale ha condotto ad utilizzare la lingua doc, diversa è stata invece la situazione dell'Italia meridionale e nella fattispecie della corte di Federico II di Svevia, dove si sviluppa un'esperienza del tutto autonoma. E infatti nella corte di Federico II di Svevia, nel periodo compreso tra il 1230 ed il 1250, si sviluppa un'esperienza poetica nuova e autonoma, quella della scuola poetica siciliana. Il luogo di sviluppo è la corte appunto di Federico II in Sicilia. Questa esperienza poetica è in realtà molto molto importante e molto importante perché rappresenta proprio la prima poesia d'arte in volgare italiano. I testi ci sono pervenuti nelle trascrizioni che ne hanno fatto i copisti toscani e per questo motivo i tratti linguistici di questa scuola poetica siciliana a tutt'oggi non sono pienamente ricostruibili, in quanto i copisti toscani, nel riscrivere i testi dei siciliani, hanno teso in qualche modo a toscanizzare la lingua, con il risultato che quello che ci hanno proposto, quello che ci è pervenuto, è un vero e proprio ibrido linguistico, in cui alcuni tratti sono marcatamente siciliani e altri tratti sono marcatamente toscani. Questo fatto ha reso molto difficile ricostruire la lingua siciliana. Noi abbiamo solo un testo che è pervenuto direttamente in lingua siciliana, Pirmiocori Allegrari, di Stefano Protonotaro. Per il resto, tutto il resto ci è pervenuto attraverso la mediazione dei copisti toscani, chi furono i massimi esponenti della scuola poetica siciliana. Tanto per cominciare Jacopo D'Alentini. Jacopo D'Alentini che è anche il padre del sonetto, di una forma metrica, di un genere metrico, quello del sonetto, che è destinato ad avere una grandissima diffusione in Italia e una estrema importanza nella storia appunto della letteratura italiana. Ricordiamo inoltre Pier delle Vigne. È importante che lo ricordiate Pier delle Vigne perché lo incontreremo tra breve all'inferno. Stefano Protonotaro è quello la cui opera Pirmiocori Allegrari è l'unica che ci è pervenuta in lingua schiettamente siciliana, quindi cercate di ricordare anche questo nome. E ricordiamo infine Guido delle Colonne. I massimi esponenti dunque della scuola poetica siciliana furono Jacopo D'Alentini, il padre del sonetto, Pier delle Vigne, Stefano Protonotaro e Guido delle Colonne. Ma sappiamo per certo che anche lo stesso Federico II di Svevia amava dilettarsi in produzioni poetiche, benché la sua opera più importante sia stato un trattato sull'arte della caccia, sull'arte venatoria. Adesso parliamo appunto di questa corte particolare di Federico II di Svevia via in cui ebbe modo di svilupparsi la scuola poetica siciliana. Questa corte di Federico II di Svevia è stata, diciamo, qualcosa di innovativo all'interno della storia appunto italiana. Intanto sappiamo, scusate, che Federico II di Svevia era il figlio dell'imperatore tedesco Enrico VI e di Costanza d'Altavilla. Dal padre aveva ereditato il titolo imperiale, dalla madre aveva ereditato la corona di Sicilia. Li divenne imperatore nel 1220 e nel momento in cui divenne imperatore fissò, si può dire, la propria residenza prevalentemente nell'area della Sicilia. Andando ad organizzare una corte che viene definita corte itinerante perché in realtà si muoveva spesso tra i propri possedimenti, non individuando in una città specifica la propria sede e questi suoi continui movimenti tra i vari possedimenti avevano una funzione di controllo sui territori, ma pur muovendosi continuamente tra i vari possedimenti risiedeva principalmente in Sicilia. Questa corte itinerante assunse il nome di Magna Curia, che è nata proprio come espressione di una nuova organizzazione politica che era fortemente accentratrice, che accentrava il potere nella figura dell'imperatore di Federico II di Svevia. La predilezione per la Sicilia che manifestò Federico II di Svevia fece sì che la Sicilia divenisse centro non solo politico, ma anche culturale, di rinnovamento dell'Italia. Ma Federico II decise di risiedere in Sicilia per riuscire ad avere un maggiore controllo sui comuni italiani perché tra le sue ambizioni c'era anche quella di riuscire a riunirli tutti sotto legida di un solo potere, cioè del potere imperiale. Federico II concepiva il potere imperiale in modo molto moderno, ovvero come un potere accentrato ed unitario. Si propose a questo scopo di favorire la supremazia ghibellina in Italia e a tal fine cercò di contrapporsi alla Chiesa non solo da un punto di vista politico, ma anche da un punto di vista culturale, incoraggiando all'interno della propria cerchia, quindi all'interno della Magna Curia e nella propria corte, gli studi di natura laica e ad indirizzo scientifico. Questa politica culturale di cui si fece promotore appunto Federico II di Svevia si sviluppò anche nella promozione e nell'impulso che diede allo studio del latino che venne concepito appunto come lingua veicolare, ovvero come lingua destinata agli scambi internazionali e alle attività delle cancellerie. Inoltre promosse la nascita di diversi istituti e di diverse istituzioni culturali. Per esempio promosse la nascita della scuola di Capua, promosse la nascita dell'Università di Napoli, ma anche la nascita della scuola di medicina di Salerno e fece sì che Messina e Palermo diventassero dei centri culturali di primo piano in cui si sviluppavano le attività di tipo letterario. La sua attenzione per il latino è un'attenzione che però si affianca anche all'attenzione per lo sviluppo, il potenziamento delle lingue volgari. Infatti la politica culturale di Federico II era una politica culturale che mirava ad una fusione culturale. Lo stesso Federico II era figlio di un tedesco, Enrico VI, e di una normanna, Costanza di Altavilla, e in quanto tale era naturalmente bilingue, parlava naturalmente due lingue, parlava inoltre il latino. E una volta giunto nella corte siciliana in funzione dell'imperatore, imparò anche il greco, l'arabo e il volgare siciliano, circondandosi tra l'altro da esponenti di tutte le culture che nel corso del tempo avevano interessato l'isola. Il greco fu mantenuto, il greco nella sua forma bizantina, fu mantenuto per esempio come lingua della liturgia religiosa. L'arabo divenne invece la lingua della scienza e della filosofia. Fu in questo periodo che, per esempio, l'astronomo scozzese Michele Scoto scrisse le proprie opere e fu sempre in questo periodo che Leonardo Fibonacci ebbe il merito di introdurre le cifre arabe per i numeri che andarono a sostituire le cifre latine. La componente culturale latina, come abbiamo detto, si mantenne come lingua veicolare degli scambi internazionali e delle attività di cancelleria. Ma, oltre a queste componenti culturali, fu sua intenzione anche quella di introdurre le lingue, diciamo, letterarie della poesia trobadorica e dei Minzeng. Chi sono i Minzeng? Erano i poeti lirici, trovatori tedeschi, dei quali Federico II si fece accompagnare. Il nome deriva dal tedesco Min, che significa pensiero amoroso. Questi Minzeng furono promossi da Federico II proprio per elevare in territorio tedesco il livello e il prestigio della lingua volgare e il loro modello venne poi riportato anche in Sicilia. Inutile dire che però, proprio, diciamo, l'origine normanna della mamma consentì a Federico II di avere una particolare conoscenza della poesia trobadorica, per la quale si impegnò a garantire una massima diffusione e per la quale si impegnò a garantire che potesse esercitare la massima influenza sugli intellettuali della sua cerchia. Federico II morì nel 1250 e con Federico II si può considerare conclusa l'esperienza della scuola poetica siciliana. Ecco perché l'abbiamo collocata tra il 1230 ed il 1250. Il tema prevalente della scuola poetica siciliana è chiaramente il tema dell'amor cortese. L'amor cortese o fin amor, per usare il termine appunto occitanico, che significa fin amor, amore fino, amore perfetto. L'amore cortese era l'espressione di un sistema di valori sociali e morali, sistema di valori che poteva albergare solo nei cuori più nobili, solo nei cuori più puri. Non era un semplice sentimento l'amor cortese, ma era proprio un'educazione, era un'educazione delle qualità e dei comportamenti individuali che miravano al perfezionamento interiore di colui che praticava l'amor cortese. Cioè, la pratica dell'amor cortese era una pratica educativa, finalizzata al perfezionamento di colui che la praticava. Solo attraverso questo processo di perfezionamento l'uomo si rendeva degno dell'attenzione della donna amata. Bene, nell'ambito della scuola poetica siciliana il tema amoroso ricavato appunto dal sistema di valori dell'amor cortese è esclusivo e questo già costituisce una prima grande differenza rispetto ai trovatori, cioè rispetto alla lirica provenzale. A differenza infatti dei lirici provenzali che affrontavano anche temi di natura politica, di natura civile, nella scuola poetica siciliana il tema amoroso è esclusivo. Come si configura questo tema amoroso? Secondo quelli che sono i caratteri appunto dell'amor cortese, del fin amor come abbiamo detto. Il rapporto cioè tra l'uomo che ama e la donna amata doveva simulare il rapporto tra il vassallo e il signore, c'è un vero e proprio rapporto di vassallaggio che si concretizzava nel cosiddetto omaggio feudale, ovvero l'uomo faceva omaggio alla dama, cioè si rendeva uomo della dama, si metteva al servizio della dama. Tale omaggio implicava cioè un servizio d'amore, si metteva in servizio d'amore alla dama, la quale dama se accettava questo servizio d'amore, questo omaggio offerto dall'uomo, vincolava i due ad un rapporto di fedeltà reciproca. Bisogna sottolineare che la dama a cui si riferiva generalmente il poeta era di rango superiore ed era generalmente una donna sposata che aveva una posizione di primo piano all'interno della corte. Ecco che pertanto il tema della lode della donna diventa un tema dominante. Tanto per cominciare la donna viene lodata per la sua eccellenza, che non è solo un'eccellenza di rango, ma è un'eccellenza che si manifesta proprio nelle sue doti fisiche e spirituali. E per esprimere questa eccellenza che pone la donna al di sopra di tutte le altre, la donna amata al di sopra di tutte le altre, lei viene paragonata agli astri, cioè alle stelle, viene paragonata alle pietre perziose, viene paragonata ai fiori, tutta una serie, cioè di immagini, un gioco di immagini, che rimandano ad una natura luminosa, profumata e preziosa, al di sopra di tutte le altre. Ovviamente il vincolo di fedeltà, il codice di comportava l'assunzione di un codice di comportamento. In questo codice di comportamento le qualità che dovevano dominare erano quelle dell'obbedienza, della misura, della misura intesa come ragionevolezza, e della generosità. Chiaramente il poeta che si proponeva in questo servizio d'amore alla dama sperava in una ricompensa, ma, in una ricompensa per il servizio d'amore prestato, ma era anche in grado di rassegnarsi qualora la dama non avesse accettato il suo omaggio. Quello che connotava il livello morale del poeta era però il suo ritegno, cioè la sua capacità di mantenere, come dire, protetta la figura della dama, di non rivelarne il nome in modo da non stimolare le chiacchiere dei malparlieri. Spesso, infatti, il nome della dama veniva in qualche modo occultato e simulato dietro una parola che diventava segnal, ovvero che diventava simbolo di riferimento della dama in questione. Un tema molto importante nella lirica provenzale, nella lirica comunque dell'amor cortese, e il tema del dolore per la lontananza. Vale la pena riflettere a questo punto sul cosiddetto paradosso dell'amor cortese, secondo la definizione, che ne ha dato un critico che si chiama Köhler. Il fatto che la donna amata fosse prevalentemente una donna sposata dovrebbe essere interpretato come contrario alla religione cristiana, la religione cristiana condanna il desiderare la donna ad altri e condanna l'adulterio. Però questa forma, come dire, di infedeltà coniugale, o che di infedeltà coniugale teorica, teorizzata, e allo stesso tempo di adulterio, in realtà deve essere inquadrata nell'epoca e nella società in cui si applicava. La società medievale era una società chiusa, e il matrimonio non avveniva mai come unione di due individui che si fossero liberamente scelti. Il matrimonio era spesso esito di accordi, non di una libera scelta tra due individui, e questo già di per sé escludeva che alla base del matrimonio ci potesse essere amore. Il vero amore, infatti, era secondo, diciamo, quello che era il punto di vista dell'epoca, era possibile solo al di fuori del matrimonio, perché solo al di fuori del matrimonio, quindi al di fuori di questi accordi utilitaristici, l'amore era liberato, svincolato da ogni obbligo e da ogni fine utilitaristico. Quanto più l'amata, inoltre, era irraggiungibile proprio perché donna sposata, tanto maggiore era lo sforzo di perfezionamento che doveva fare l'amato per rendersi degno di lei. In altri termini, il paradosso dell'amor cortese risiede proprio in questo, nel fatto che il vero amore rimane tale solo se non vuole essere soddisfatto, se non ambisce ad essere soddisfatto. Se, cioè, tale amore si fosse concretizzato in un'effettiva unione carnale tra l'uomo che ama e la donna amata, immediatamente sarebbe venuto meno il principio del perfezionamento, perché si sarebbe annullata quell'elevazione, quell'attenzione a migliorare se stessi per rendersi degni della donna amata e quindi il senso profondo dell'amor cortese sarebbe venuto automaticamente meno. Ora, come stavamo dicendo, rispetto però a questo sistema, diciamo che è caratteristico della società occitanica, i rapporti di potere nella corte di Federico II non erano più affini ai rapporti di potere propri del vassallaggio e quindi i siciliani, rispetto ai trovatori occitanici, compiono proprio una significativa variazione di tendenza tematica, cioè non parlano più dell'amore in quanto legato alla singola donna, ma finiscono col concentrarsi sulla descrizione dell'amore in quanto tale, più che concentrare la loro attenzione sui rapporti tra l'amante e l'amata, rimangono in qualche modo concentrati su quella che è la tematica generale dell'amore e i rapporti tra l'amante e l'amata finiscono col diventare figura di sfondo, figura di contesto in una poesia che diventa quindi più rarefatta e astratta rispetto a quella dei trovatori provenzali. La figura della donna qui, infatti, è meno delineata, è meno precisa, perché la donna è solo uno stimolo, è in qualche modo un'occasione per fare poesia, particolareggiata, mentre risultano molto più particolareggiata e precisa la descrizione degli effetti dell'amore, la riflessione sugli effetti dell'amore sull'uomo. Quali sono le conseguenze di questo cambiamento di atteggiamento? In primo luogo, il fatto che la poesia siciliana sviluppa un carattere che sarebbe stato significativo in tutta la storia della letteratura italiana, ovvero l'attenzione per la dimensione introspettiva e psicologica del poeta. E in secondo luogo, il fatto che l'esperienza d'amore diventa principalmente un'esperienza di tipo intellettuale, che è sottoposta a considerazioni di carattere scientifico. Quali furono le strutture metriche e linguistiche e retoriche che caratterizzarono la scuola poetica siciliana? Intanto va detto che le strutture metriche selezionate dai siciliani hanno condizionato tutta la tradizione poetica italiana successiva. Hanno costituito proprio il modello originario di riferimento per tutta la tradizione poetica italiana successiva. Le tre tipologie di struttura metrica prevalenti sono state intanto la canzone che derivava dalla canzone provenzale ed era utilizzata per i temi più importanti. Era la forma, cioè il genere metrico, più elevato ed illustre della poesia lirica. La canzone era costituita da strofe, dette stanze, di endecasillabi e settenari. In secondo luogo la canzonetta, che aveva invece una forma narrativa e dialogica e per questo si prestava ad argomenti meno nobili e meno elevati della canzone. Anch'esse era costituita da strofe, in questo caso però prevalentemente di settenari, ottonari, novenari oppure doppi settenari. Vedremo che per esempio i contrasti, che sono un genere particolare di canzonetta, si caratterizzano per i doppi settenari. E il sonetto. Il sonetto, di 14 versi in decasillabi, suddivisi in due quartine e due terzine, è il genere per eccellenza della scuola poetica siciliana, inventato all'interno della scuola poetica siciliana da parte appunto di Jacopo Dalentini. Al sonetto era affidato l'incarico di affrontare argomenti vari ed essendo comunque un componimento breve, si prestava anche, diciamo, ad affrontare temi di minore impegno rispetto alla canzone e rispetto alla canzonetta. Per quanto riguarda il linguaggio, possiamo presumere che la scelta fosse quella appunto di un linguaggio aulico ed elevato. Non abbiamo in realtà grandi elementi per esprimere appieno questo concetto, per il semplice fatto che, come ho detto in precedenza, non possiamo ricostruire il siciliano precisamente, lo possiamo ricostruire solo a pre-approssimazione, essendoci giunto attraverso le copie che ne hanno fatte i copisti toscani, i quali hanno spesso toscanizzato la lingua. I rapporti con il modello tropodorico. Allora, rispetto al modello tropodorico abbiamo già capito che esistono, in qualche modo, come dire, delle variazioni. Queste differenze significative che esistono, se implicano infatti un'imitazione del modello tropodorico, implicano anche, diciamo, un distanziamento, soprattutto riguardo alcuni aspetti. Un aspetto che è relativo proprio alla natura, alla definizione di status del poeta siciliano, che è diversa da quella del trovatore. E una seconda distinzione riguarda il tipo di temi che vengono affrontati. Parliamo, tanto per cominciare, della differenza di status sociale. I poeti siciliani non sono i provenzali, non sono i trovatori provenzali. I trovatori provenzali erano per lo più figli cadetti, oppure esponenti della piccola nobiltà, o ancora potevano essere giullari di corte. Il loro impegno poetico era spesso finalizzato a dimostrare che essi erano portatori di una nobiltà che non derivava dal sangue, ma che derivava dalla ver... che era una nobiltà, insomma, interiore. Non una nobiltà di sangue, ma una nobiltà spirituale, esito di un lungo processo di perfezionamento attraverso la pratica e l'esercizio dell'amor cortese. I poeti siciliani, invece, sono per lo più dei borghesi, quindi non hanno proprio ambizioni di nobiltà. Borghesi che esercitano funzioni amministrative e burocratiche nella corte. Jacopo d'Alentini era un notaio, Pier delle Vigne era un cancelliere, Stefano Protonotaro, come dice il suo stesso nome, era un protonotaro e Guido delle Colonne era un giudice. Per loro la poesia era solo un diletto, non aveva altra natura, quindi non aveva lo scopo di collocarli all'interno della società in una posizione particolare. La loro posizione era garantita dal ruolo che svolgevano all'interno della corte. La poesia aveva solo una funzione di diletto, di divertissement raffinato. In secondo luogo, quello che evidenzia, manifesta, insomma, la differenza fondamentale tra la poesia trobadorica e il modello sicilia e la scuola poetica siciliana è l'assenza del tema politico, che si può spiegare facilmente, perché si spiega proprio col fatto che il regno delle due Sicilie rispetto alle corti, per esempio, dell'Italia settentrionale e anche rispetto ai rapporti di vassellaggio che caratterizzavano la civiltà cortese dei trovatori, era molto diverso. In Sicilia c'era un forte potere monarchico che era assoluto e accentratore e la vita politica di fatto si esauriva nel volere del re. Non c'era un clima di libertà e di scontro politico vivace. Non c'erano neanche quei dissidi politici e quella dialettica che opponeva Guelfi e Ghibellini, per esempio, nell'Italia settentrionale. In altri termini mancavano contrasti e dinamiche che potessero favorire la nascita di una poesia di tipo civile e di tipo politico. La poesia, quindi, era interpretata come evasione dalla realtà, come raffinato gioco intellettuale che era circoscritto ai membri di un'elite che costituivano contemporaneamente i produttori del testo poetico perché erano i poeti e anche colui destinatari. In altri termini tutto si esauriva all'interno di un cerchio chiuso, di un circolo chiuso e all'interno di questo circolo chiuso anche l'amore era interpretato come un gioco raffinato ed aristocratico che aveva una sua espressione, una sua manifestazione nella poesia. Ecco spiegata anche la progressiva rarefazione della figura della donna che ha fatto sì che si inaugurasse con la scuola poetica siciliana in Italia quella che è stata definita dai critici come poetica dell'assenza. A partire dalla scuola poetica siciliana l'Italia, la lirica italiana, canta donne che sono sostanzialmente irreali. Questa irrealtà, questa evanescenza, questa astrattezza della donna si protrarrà nella lirica italiana fino a Petrarca. Solo Petrarca riuscirà a superare questa dimensione di rarefazione della donna dotando Laura, la donna cantata da Petrarca, di una vera e propria corporeità fisica e di una sua individualità personale. abbiamo già detto che una delle conseguenze della scuola, della diffusione della scuola poetica siciliana è stata poi la diffusione del modello della scuola poetica siciliana anche al di fuori della Sicilia ed in particolar modo in Toscana. Il modello della scuola siciliana ha trovato infatti larga diffusione in Toscana dove i copisti toscani hanno trascritto i testi dei siciliani toscanizzandoli ovvero rimaneggiandoli linguisticamente e quindi con questo averli rimaneggiati linguisticamente impedendoci di ricostruire se non per approssimazione la lingua siciliana originaria. però dobbiamo anche riconoscere che questa opera di ricopiatura che hanno fatto i copisti toscani ci ha permesso anche di salvare questi testi li hanno salvati perché i testi originari sono andati distrutti a seguito dell'accaduta della dinastia di Svevia nel 1266 dopo la battaglia di Benevento in cui ha perso la vita il figlio di Federico II di Svevia ovvero Manfredi Qual è la novità dei toscani della scuola poetica toscana? Intanto che al tema amoroso aggiungono finalmente il tema politico e civile e questa cosa si spiega facilmente se considerate che i comuni della Toscana sono stati caratterizzati proprio dai conflitti e dalle lotte tra città all'interno della città da lotte tra classi sociali oppure tra fazioni politiche in questo modo il poeta non è più un burocrate al servizio della corte cosa che accadeva invece nella scuola poetica siciliana ma è un vero e proprio cittadino che vive intensamente la vita politica della propria città riversandone poi le passioni nella propria produzione poetica chi furono i massimi esponenti della scuola poetica toscana? Tanto per cominciare Guittone d'Arezzo Guittone d'Arezzo che ha scritto una canzone una bellissima canzone hai l'asso ore stagione di dollertanto canzone scritta dopo la battaglia di Montaperti battaglia di Montaperti del 1260 con la quale di fatto diciamo Guittone d'Arezzo compiange la sconfitta della parte guelfa di Firenze e lamenta la perduta grandezza della città di Firenze un altro esponente della scuola poetica toscana è stato proprio Buonaggiunta Orbiciani il quale è stato celebrato da Dante nel 24esimo canto del Purgatorio e a questo poeta che gli chiese ragione nel 24esimo canto del Purgatorio della novità stilistica che avrebbe caratterizzato la poesia di Dante proprio al dialogo tra questi due poeti tra Dante e Buonaggiunta Orbiciani si deve il merito di aver coniato la definizione della scuola poetica che affronteremo successivamente ovvero il dolce stil nuovo bene spero che la lezione vi sia risultata chiara spero che non ci siano problemi di comprensione vi ringrazio per l'attenzione che mi avete destinato vi chiedo gentilmente se avete difficoltà di qualunque tipo dubbi perplessità o semplicemente se volete approfondire qualche aspetto di comunicarmelo con i secondo i mezzi a vostra disposizione e vi auguro una buona giornata e ci rivediamo a presto con la video lezione sul dolce stil nuovo arrivederci ragazzi